Il centro sud Italia è nata qui a terra, il centro sud Italia, ne parlavamo ieri sera da niente a cena con Michele e Piracci, è nata qui in Italia, qui in Alpera, non praticamente qui in Alpera, è rimasta l'unica. L'abbiamo ancora, dopo è stata l'unica, negli anni 60, ma per motivi costringenti che non sono difesi da noi, però questo è un motivo di orgoglio. Voi conoscete tutti Bernardo Taraschi e in quel periodo praticamente, quest'anno abbiamo pubblicato diversi libri, il circuito del Castello e tanti altri che non vi voglio dire, diciamo non vi voglio dire, però ne abbiamo fatto uno, presentato l'anno scorso, ma ufficialmente come cassa non l'abbiamo fatto, che è il libro sul nostro socio, che è Aldo Seratini, il quale in Venezuela, questo ce lo dirà Paolo in due parole, ebbe l'ardire di sfidare, di correre e di vincere, ed era il mitico pilota che faceva le curve sulla sua auto con due ruote, e lui quando tornò dal Venezuela ha avuto l'ardire di sfidare chi? Berardo Taraschi, l'unica cosa che arrivò nel 1969, tornò dal Venezuela, e non si era accorto che le corse in Italia, le corse cittadine, erano state abolite, e per lui fu una delusione, era convinto, questo lo diceva, che avrebbe superato Berardo Taraschi, quindi ma è soprattutto la passione che lui diciamo ci ha portato, forse non sarebbe successo così, forse sarebbe successo, è importante che lui a 84 anni, a 85 anni ha ancora questa passione, Paolo allora due, 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 no ma poi si hanno, innanzitutto, buongiorno a tutti, allora il presidente Corleloi parlava di diritto associativo, io associerei questa cosa molto importante al concetto di socializzazione, il concetto di socializzazione che dopo due anni vissuto in questa maniera oggi assume ancora più rilevanza, sia dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista dei valori sportivi che questo club rappresenta. Un'altra cosa, oggi se qui il cast fa 20 anni è perché un secolo fa si è gettato un seme, ed è un seme lunghissimo appunto, un secolo, attraversato da campioni, personaggi, trafei, gare, eccetera. In mezzo a tutto questo bellissimo racconto c'è la storia di Aldo Serafini, il pilota specialista delle curve su due ruote che è spallò di Caracas, quindi Venezia, a lui la parola. Io la ringrazio e non ho potuto ringraziare i soci, i soci, tutti i componenti del club e poi particolarmente il dottor Cellinese, quindi la ringrazio di tutti quelli che hanno fatto per me, la saluta scovato, il dottor Cellinese, il dottor Paolo, il dottor Paolo, nella mia storia in Venezuela, quella che io ero. Poi inizio a tornare in Italia, volevo dimostrare qualcosa, portai la GTA Auto Delta, che era qualcosa di bello tra in tutta Italia, purtroppo sono tornato qua e non ho potuto fare niente, perché Tarasca aveva la 850 e io e la mia era più potente, aveva una 1.6 doppia accensione, GTA Auto Delta e quindi al castello non si faceva più le gare e io avevo il desiderio di fare quel bel castello e quelle belle curve, purtroppo sono stato disuso, scusate se purtroppo la passione è così grande, fu tutta una delusione, io e la mia macchina l'abbandonai, purtroppo adesso mi trovo con una macchinetta, con una paligla del 33 e non posso andare più il 200, il 120, il 100, e vado con questa paligluccia, 90, 100 all'ora e la mia delusione è rimasta qua in Italia, invece di farla rimanere in Venezuela e che sapeva la mia storia, dove che passa, avevo conosciuto tutti quanti, Aldo, Aldo, Aldo e così è finita tutta la mia bella passione, delle belle macchine, però sapeva sempre quello che era, purtroppo passa l'età, ma io l'età ancora non me la accorgo, quindi sto bene e se ti vuole se avrò qualche altra occasione di farmi una bella carina, ancora mi sento, una bella potente macchina, sto a disposizione, qualche macchina che ci fosse, io la ringrazierò anche per fare questa grande cortesia, ho una pratica, un caro saluto e un ringraziamento a tutti i soci di nuovo, ai soci, ai componenti, al più particolarmente al dottor Chiellinese e al dottor Paolo che hanno fatto tanto per me, come ha fatto a ritrovare la mia storia, grazie tanto dottore, grazie a tutti e scusatemi tanto del mio piccolo, non so come ne spiegarvi, la ringrazio ancora, tante cose. Grazie, grazie veramente a Valco che si è accionato, allora poi vi dico che alcuni di voi alcuni di voi hanno ricevuto già questo libro pure l'anno scorso, oggi sarete omaggiati praticamente di questo libro perché è importante scrivere praticamente di grandi piloti come il Marchese de Sterling e come tanti altri, ma è importante anche scrivere di piloti che sono rimasti praticamente un pochino in ombra ma che hanno avuto un grande cuore e soprattutto una grande passione come Aldo, Aldo ti sei emozionato? Non ci siamo emozionati con te, grazie. Allora, Domenico, allora, un applauso a Domenico perché sono 10 anni che non ci ricordiamo, con una mascherina, un saluto, lui è stato non il primo presidente perché di fatto si è tirato indietro in quella giornata, però è stata l'anima del club Amici della Topolino e poi lui è una ruspa, ha fatto in modo tale che questo club si federasse ASI nel 2012, io ci misi pure una piccola mano e questa cosa praticamente ci ha fatto in orgogliere e grazie a lui che oggi siamo cast, club auto, moto storica, tenamo, federato ASI. Grazie Domenico. Grazie, sono contento che adesso stai in buone mani, come già pensavo 10 anni fa di passare la mano dottor Celinesi. Questo club è sorto 20 anni fa, proprio con uno stimolo da bere il Topolino, abbiamo fatto amicizia con quasi tutti i club d'Italia, di Venezia, di Polonia, da Napoli, a Firenze e quindi siamo stati con tanti amici e c'è stata tanta la volontà di portare la federazione ASI a Piramo e dopo tante peripezie ci siamo riusciti. Chi è stato con me sa quante sacrifici è costato per portare la federazione ASI a terra. Quindi oggi vi ringrazio che ci troviamo qua e proprio dovuto a questa federazione. Grazie al nuovo Presidente. Grazie Domenico, sarà sempre con noi. Allora, finisirei quindi con la prevenzione, con le taghe e poi concluderei intanto saluto anche il consigliere dell'ACI, il dottor Cleto Pallini che viene da Pineto, grande amico, grazie, un applauso a Cleto. Allora, non ci distraiamo che stiamo per concludere. Io piano piano poi saluterò tutti i grossi amici, vedo questo delinquente di Agostino, Agostino Mettatevi con Roberto Severino, l'altro delinquentino che ci accompagnano sempre con le loro bellissime au, vengono dalle Marche, insieme a Ragnerociano. Allora, il Vice Presidente Gabriele Ivelli, qui si avvicini. Questa targa dovete ricordare che è stata fatta, penso che sia particolarmente bella con questo manifesto particolare. Noi vi invitiamo a metterlo a fianco alla Madonna sul capoletto matrimoniale. Chi è separato sul letto singolo. lo dovete tenere sempre lì ogni sera quando vedrete praticamente questa targa una preghiera per il dottor Cedinese. Grazie. Gabriele Ivelli. Gabriele Ivelli. Vice Presidente. Il grande Presidente che ci ha portato, diciamo, e che ci ha traghettato, ha voluto inventare questo club Domenico Aloisi sul capoletto. Io inviterei i componenti del direttivo attuale praticamente avendo a consegnare i legali. Vai, uno ciascuno. Pasquale Pilotti. Dove sta Pasquale Pilotti, il più grande amatore di donne della provincia di Perno? Donatello Piccone, che è qui che il segretario Marco Di Dominici premia, prima ha pregnato Daniele Ceramellano. Pasquale Di Egidio, che è stato fino a qualche anno fa tesoriere, fondatore premia. Un altro componente del direttivo, Roberto Dostiglio. Un applauso, un bacio, un bacio. Grazie. Allora, Nardino Cirillo, che premia? Un altro componente del direttivo. Chi è che premia? Ecco qua, il commissario Lorenzo Orsetti. Un applauso a Nardino Cirillo, grande artigiano della pezzeria Teramana. Allora, Edigio Trinetti, che è stato un grande dirigente del comune di Teramo. Eccomi, come si dice? Nel momento in cui uno viene cresimato, il vesco dice nome e cognome, eccomi. E quindi eccomi, ti cresimeremo. E Silvano Ciotti, che premia? Grazie, grazie a tutti quanti. Finito allora i premi, gli altri saranno predistribuiti. Ovviamente ci siamo ricordati un pochino tutto prima. Io allora, ovviamente, lasciamo, prima ci cominciamo ad avvicinare alla sala e inviterei praticamente il complesso bandistico a darci, non ci fermiamo per un momentino a darci un ultimo assaggio. Scusate, scusate, un ultimo assaggio. Ovviamente questo è un momento per noi importante, mentre poi sarà distribuito a ciascuno, ad ogni equipaggio, questo libro che ci racconta la storia di questo pilota, Aldo Serafini, in questi venti anni, a venti anni, a venti anni praticamente dall'inizio di questa avventura. Allora, vai! Grazie, grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.